Eccoci qua mattina con noi, siamo tornati, abbiamo cantato, che bella la canzone di Celentano Beh ma le canzoni della tradizione italiana musicale sono sempre bellissime, anche riarrangiate entrano sempre nel cuore dei nostri telespettatori ma soprattutto nel nostro cuore E allora, se la regia ci aiuta, magari così dovrebbe succedere qualcosa, vediamo se ce la facciamo Eccoci, ecco, che succede? Eh non lo so, che succede? Chi c'è? Da dove vieni tu? Ma si è pure messo il microfono, non so Mi sono anche messo il microfono, è stato difficilissimo Buongiorno, buongiorno, buongiorno Spider-Man Ciao Simone, ciao Anna Ciao Ma tu ci conosci? Da contano, io vi conosco molto bene, vi seguo tutte le mattine Sì? Quasi tutte le mattine Ma ci segui anche, ma molto da vicino Molto da vicino, da vicinissimi Ma da dove vieni? Dove vieni Spider-Man? Vuoi la risposta formale o informale? Cioè, posso dirti da New York, in vacanza a Roma Ah, sei in vacanza? Stai facendo uno scambio culturale? Eh sì, più o meno Con un topolino? Con un sacco di bambini, un sacco di bambini Senti, ma Spider-Man quindi quanti cattivi stai arrestando in questo momento? Beh, a Roma ce ne sono troppi, quindi nessuno Sì, preferisco New York, più cinematografica Se catturi un cattivo, è tutto molto più filmico È più filmico? Però i tuoi preferiti sono i bambini Ovvio Non li catturi, i bambini? No, è ovvio di no Però sì, faccio animazione così Dove vai in vestito così? È un po' in giro ovunque Il costume è sempre nella valigia Sempre Se faccio qualche viaggio il costume è in valigia Sì Però mi diverto e mi diletto nel fare le feste ai bambini Ah, vedi? Quindi Spider-Man è un cuore d'oro Ma noi lo sappiamo questo Ma dai E perché? Cos'è che ti piace di questo? Beh, a me sarebbe piaciuto da bambino A me da bambino vedevo Spider-Man impazzivo Ero Spider-Man anche da bambino Ci sono cresciuto con questa passione Anche tu, come tutti i bambini, faceva così No, ma tu sei Spider-Man Io sono Spider-Man Eh, appunto Sono Spider-Man, è vero? Sono Spider-Man Sei diventato Spider-Man Sono diventato Spider-Man con il tempo E da piccolo ho provato anche a farmi pungere dei ragni Andavo in giro in giardino cercando ragni E niente Niente, non ha funzionato E però, ehi, indossi un costume Bambini ci credono, è bellissimo questo Perché vai lì, gli racconti storie Loro che pendono dalle tue labbra Fanno voglia di diventare Spider-Man pure io Gli regali un sogno Esatto Senti, ma possiamo far vedere il tuo viso? Facciamo vedere il mio viso? Se scopriamo l'identità di Spider-Man Sì, c'è già una foto alla rene ferretti Qui c'è un'anteprima? Un'anteprima Un'anteprima adesso ci racconta Scopri, scopri Hai bisogno di aiuto? No, 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 ci riesco Voilà L'Orezzo, fantissima lì Buongiorno, fa caldo là sotto? Fa caldissimo Guardate, tolgo anche Vai, mettiti comodo Ecco qua Puoi metterti comodo? Ah, ok Ah, c'è tutto proprio un ambaradam Io mi farei mutare dalla regia Scusate regia, ho fatto un casino No, perfetto Grazie per essere qui Dopo di formazione professionale Questa la poggio qua Ehm, sì Benvenuto Lorenzo Grazie Come stai? Tutto bene Ti aspetti che sotto il costume di Spider-Man Ci sia questo ragazzo così bello Carino, questo bel viso Così giovane Così giovane Soprattutto Ma Lorenzo Ciao nonna Io faccio te guardare la tre Ciao Robby Giusto Solitamente sono io a dirlo Solitamente tu a dirlo Per questo mi sono permessa Però Lorenzo Allora tu sei giovanissimo Ehm Cos'è che nasce Veramente A parte gli scherzi È proprio Il fatto di regalare un sogno Un'emozione A un bambino Allora sì È partito più o meno da questo L'idea anche del costume Il costume perché è il tuo preferito Il personaggio Ovvio Ovvio Non potrei comprare costumi Oltre a Spider-Man Infatti ne ho quattro Si lavano Immagino Si lavano Sì Se no Sarebbe Non vai ad animare le feste dei bambini Ma li vai ad uccidere Perché è lì Ma tutti gli invitati Io ho iniziato Tre, quattro anni fa Quando ero ancora in terzo superiore Minorenne E ho fatto due anni di animazione In un villaggio turistico Quindi iniziai già Ad interagire con i bambini E poi ho detto Ma io C'ho il carattere da Spider-Man Sono un po' Spider-Man Qua intanto vediamo le foto del corto Perché ho girato anche un cortometraggio E adesso ciò Ne parliamo Ne parliamo Non spoilerare nulla Non spoiler Non spoiler Colpa di Manuel Mazzai Regia E Dicevo Sì Ho deciso di comprarmi questo costume Che comunque Era anche un Andavo a spendere per la prima volta Qualche soldo in più I primi soldi che mi entravano Andavo a spenderli per il costume L'idea iniziale era di andare negli ospedali Sì Ad aglietare I bambini Esatto E poi è scoppiata la pandemia Stava per scoppiare la pandemia Io nel frattempo Avevo letto questa storia Da un fumetto di Spider-Man Che era realizzabile Io ho fatto la scuola di cinema Quindi avevamo scenografia E tutto quanto Il teatro di posa E ho deciso di Di realizzare questo cortometraggio Nel frattempo Coppia la pandemia Quindi Gli ospedali chiusi E non c'era modo di entrare Certo Nel frattempo Io che cercavo di organizzare il cortometraggio Tra una chiusura e l'altra È stato un po' complicato Però mi sono divertito È finito quel cortometraggio In quinto superiore Tra l'altro l'ho portato come Qui c'è l'altro regista Di Cusano Italia TV Daniele Petrosemolo Del 234 Che saluto se mi sta vedendo Ciao Daniele Ah che eravamo compagni di scuola Eravamo compagni di classe Sì Qui è la prima volta Che condossato un costume Di Spider-Man a scuola Sì E le ragazze che dicevano Vedendoti vestito così Cioè acchiappavi di più? Più che acchiappavo Belle chiappe Mi dicevano Vabbè Era comunque un complimento È una tutina È una tutina Che poi evidenzia Sì sì È strettissima Io adesso sono tipo Un salame Tutto E adesso Perché dopo le feste di Natale Non so se No no Non mi entrerà più Vabbè dicevi Avete fatto questo cortometraggio Ovviamente ti sei fatto aiutare Come dicevi Anche dall'altro regista Sì È stato un lavoro collettivo Quel cortometraggio È stato il mio primo Eccoci L'altro regista era Jonathan Quello che era lì dietro di me Sì Avevamo ricreato questa scenografia Esattamente come nel fumetto Con il poster di Star Wars dietro Ho cercato di riadattare La sceneggiatura A livello più cinematografico Dato che appunto Andavo a prendere da un fumetto Degli anni 80 Quindi un po' Andava modernizzata Esatto E niente E ecco di qua Sti sembrendo un work in progress Questo è un prodotto ancora non finito Mi pare di capire Non finito Perché è sempre Dato che l'ho fatto in quarto e quinto superiore Cerco di aggiungere ciò che imparo con il tempo Certo All'interno del corto Quindi magari vado ad ovviare alla brutta recitazione Da parte mia No Molto brutta Diciamo che Sono meglio dietro alla camera Che davanti alla camera E sto cercando di inviare Facendo qualche lezioncina di doppiaggio Con Marco Camillacci Il figlio di Fabione Fabio di crimine Ecco io l'ho detto Anche da piccolo ero Spider-Man Eccoti Ecco Un piccolo Lorenzo Un baby Lorenzo Che carino Allora facciamo così Lorenzo Vediamoci un assaggio di questo work in progress Hai un backstage? Sei sicuro? Sì sono sicurissimo Magari teniamo qualche appunto Magari cerchiamo di capire che cosa si può migliorare Ma io sono sicuro Va benissimo Che già Insomma sia bello così Va bene Ce lo vediamo e poi lo commentiamo Vai Manuel Mazzei dalla regia Azione Oddio uomo ragno Sei tu In carne d'ossa È ansioso di conoscerti Non può essere L'uomo ragno vuole conoscermi Chi non può essere? Io? L'unica autentica e stupefacente Uomo ragno Ma sembra che tu voglia che te lo dimostri Stop Io sono Peter Parker Sono io che ho fatto molte delle foto che compaiono in quell'articolo Stop Azione Quindi per tutto questo tempo Jameson ti ha pagato per scattare foto a te stesso? Proprio così È incredibile Vorrei poterglielo dire Anche io ma non possiamo Non preoccuparti Capisco Rimarrà il nostro super segreto per sempre Già Questo ci renderà amici per la pelle Lì ti fece tante foto in azione Queste invece le ho trovate nei muri di un edificio a Forest Hills Sono pallottole che hai schivato con la tua agilità E devo dire che non ce l'avrei mai fatta se non fosse stato per Jonathan e Matisse Che sono sempre stati efficienti e innovativi sul set Creando e inventando inquadrature essenziali e suggestive E luci esattamente come l'avevamo immaginate Nel lontano ormai marzo 2020 Quando iniziamo a fare il pre-lighting Che bravo Senti uno Spider-Man tutto abbronzato nell'ultimo frame Un po' di barbita Quando avevo Io ho dovuto tagliare Avevo i capelli lunghissimi Molto lunghi A me piacciono i capelli lunghi Infatti li sto facendo ricrescere Per girare il cortometraggio Dato che non si è mai visto uno Spider-Man Tarzan L'ho dovuto tagliare Solo per il corto Mamma mia che bella La tua è proprio una passione Senti però Lorenzo raccontaci Ma poi Spider-Man è andato negli ospedali? C'è andato negli ospedali E fortunatamente sono riuscito Tramite Mariella Che saluto Non mi starà vedendo però Ciao Mariella Tramite Mariella sono riuscito ad andare Chi è Mariella? La madre della mia ex Sì? Siamo rimasti in buoni rapporti Siamo rimasti in buoni rapporti Ciao Sara Anche a te Saluto tutti oggi Scusate posso farlo Ma quante vite hai vissuto Scusa Spider-Man Cerco di viverne il più possibile Però mantengo la testa Perché sennò uno è scematto Con tutte queste vite Però Grazie a lei Sono riuscito ad entrare Al San Raffaele Sì E sono riuscito alla fine Come abbiamo visto anche dalle foto Ad aiutare questi bambini Cioè comunque Sono entrato lì Il clima era particolare Anche un po' teso all'inizio Ero teso io più che altro Però dopo un po' che vedi che loro Prendono confidenza Prendono confidenza con Spider-Man All'inizio ero Lorenzo Poi bagno Hai capito che dovevi ragazzi? 5 minuti Facciamo 10 minuti con il costume 10 minuti sono diventato Spider-Man E loro erano tutti Wow Spider-Man Spider-Man Ed erano contenti Quando sono tornato Ad uno di loro Ho portato un fumetto Che me l'aveva chiesto La prima volta E Non lo so Vederli sorridere così È veramente E hanno creduto Che poi fossi davvero Il vero Spider-Man Sì Poi tra l'altro Io scrivo sceneggiature Io scrivo sceneggiature E questo mi porta ad inventarmi Storie su storie Anche quando me ne devo andare Dai compleanni Se me ne devo andare Da un compleanno No finisce l'orario L'orario Certo Tu non vuoi andartene I bambini non vogliono Che tu te ne vada Perché ormai E tu cosa dici Io gli dico Adesso devo tornare A cacciare i cattivi Capito Mi invento una qualche storia Con un dottor Octopus Goblin Loro ci credono Vai Spidey E io nel frattempo Me ne vado Uccideli tutti Sì Esatto Non uccideli tutti Non sono ancora così cruenti I bambini Con i quali lavoro Però Beh no Perché hanno un target piccolo Dai 3 ai 9-10 anni Esatto Quindi sono ancora ingenui Da questo punto di vista È bello essere ingenuo Sotto questo punto di vista Vedere uno Spider-Man E credere che sia veramente Quello Spider-Man Nonostante ci siano i film È bello E questo lo può fare un bambino Non una doccia Certo Aspetta Qual è lo Spider-Man Al cinema che ti piace di più Perché abbiamo avuto Tobey Maguire Tom Holland Andrew Garfield Andrew Garfield È difficile Domanda tosta È difficile Domanda tosta Come miglior Spider-Man Andrew Garfield Sì Ma proprio fisicamente Sì 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 E spesso mi danno Dell'Andrew Garfield So che i fan di Andrew Garfield Non saranno d'accordo No 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 Dicono ci prendo con Andrew Garfield E solo miglior film Spider-Man È il primo È il primo sì La trilogia di Sam Raimi È Sì è bellissima Con Tobey Maguire Con Willem Dafoe Willem Dafoe Goblin Attore Faccia Goblin Sì Tra l'altro di Roma Lui Cioè abita a Roma E si è sposato con un'italiana Se non sbaglio Ogni tanto Alla Feltrinelli L'ho intravisto Ogni tanto spero di Spero di incontrarlo vestito così Magari Ti dice Wow E invece i tuoi prossimi progetti Spider-Man Quali sono? I miei prossimi progetti Sicuramente Vorrò realizzare altri corti Sì Devo lavorarci ancora Anche perché Adesso ho vent'anni Sto cercando di Sei talmente giovane Sono giovane Sono giovane E cerco di Di riuscire a mandare a pari passo Passione Con impegni lavorativi E tutto quanto Quindi cerco di ritagliarmi Quegli spazi liberi E faccio Spider-Man E riesci a trovare Il tempo libero per te? Ci provo Me lo creo Il tempo libero Me lo creo Magari va Deficitarne un po' il sonno Però Perché a te piacerebbe fare Poi fondamentalmente Lorenzo Tantissime cose Io farei Chi è Lorenzo? Chi è Lorenzo? Spiegaci chi è Lorenzo Io Mi piace Dire Adesso sono in prestito Alla televisione Perché voglio diventare Regista cinematografico E come ho detto prima Scrivo anche sceneggiature Quindi qualcosa che va a pari passo E dal terzo superiore Nel momento in cui Mi sono addentrato Dentro la spettacolare scuola Che è stata Il Cine TV Roberto Rossellini Eh ricordiamolo Perché è una scuola superiore Pubblica Sì è una scuola superiore Pubblica Che si trova a Roma Quindi è giusto ricordarlo Perché è vero che L'Italia ha delle cose molto belle Dicono sempre che l'istruzione è così Che bisogna andare sempre all'istruzione privata Invece no L'istituto Rossellini Esatto È una scuola superiore Si chiama Cine TV Cine TV Roberto Rossellini Ed è pubblica Completamente pubblica Tu hai frequentato questa scuola Esatto Sì quindi c'è proprio una scuola È vero A Roma Per diventare registi Diciamo che non Dipende anche come la prendi Io ho avuto subito la passione per il cinema E lì principalmente studiamo televisione Sì E poi se uno è curioso È interessato I professori sono ben disposti A spiegarti tutto sul cinema E io ho voluto Sono voluto addentrare in questo E spero di farne il mio futuro Ma Spider-Man l'hai portato all'esame di maturità? Sì Quel video che abbiamo visto Il me giovane con dietro tutta la libreria I fumetti I poster Sì Era il video dell'elaborato dell'esame Sì Sono stati contenti immagino i professori Per lo sforzo fatto Penso abbiano apprezzato Sì 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 Mi hanno anche ricompensato con un ottimo voto Però Mi conoscevano Alla fine abbiamo girato per un anno quel corto Che ha la durata di 10 minuti Inizialmente dovevamo Mamma mia Ma dovevamo in copertura No ma devi esserne invece orgoglioso Ma all'inizio c'è la copertura C'è una foto che avete mandato prima Sì Dove i palazzi erano disegnati a mano Ah bello Bellino Bellino Diciamo Perché Scusami però Lorenzo Allora eravate dei ragazzi Siete Dei ragazzi Eravate dei ragazzi giovani Dentro una scuola Imparare è giusto così Guarda rivediamo la foto Manuel scusami È bello sapere che c'era tutto Tutto questo Proprio oggi Proprio è la giornata Che dico sempre la stessa cosa È bello che voi vi siete Messi a mano A fare questo È stato un qualcosa di amatoriale E non voglio farlo uscire per ora E almeno in futuro Quando avrò la versione definitiva Probabilmente farò uscire Tutte le versioni La versione iniziale E quella definitiva Esatto Per vedere un qualcosa di amatoriale E come poi si è sviluppato nel tempo Poi dopo ho ingaggiato Un mio amico Ho ingaggiato Gli ho rotto le scatole Per tanto tempo Per farmi i palazzi 3D Sullo sfondo In computer grafica Eh certo Piano piano me lo farà Per ogni scena del corto Beh è giusto E cambierà questo corto A crearti la tua squadra No? Di gente di cui ti fidi ciecamente Perché comunque Prego La mia troupe Vorrei precisare di gente A parte giovane Sì Perché mi piace lavorare con i miei coetanei Anche perché Hanno un'altra mentalità Non che sia migliore o peggiore Rispetto a quella delle generazioni scorse Però Ha voglia di fare Hanno voglia di fare E gli piace fare ciò che fanno Beh tu sicuramente riesci a trasmettere grandissimo entusiasmo Questo si vede Lorenzo E questo secondo me ti porterà lontano Perché la passione ce n'è tantissima secondo me Poi hai scelto un mestiere difficile Inutile negarlo Il regista Anna Maria lo sappiamo Quante difficoltà lungo il cammino incontra Però poi Vedevo proprio ieri Il discorso di Lady Gaga Agli Oscar Quando ha vinto gli Oscar Ha fatto un discorso molto toccante Emozionante Dicendo quello che vedete È il risultato di un lavoro durissimo Se lavorate duramente Se ci mettete passione Poi alla fine le cose belle accadono Tu sei giovanissimo Spero vivamente sia così Ma io te lo auguro di cuore Che Natale sarà per Spider-Man Natale sarà per Spider-Man Al lavoro Al lavoro Al lavoro Non si riposa mai Spider-Man Non si riposa mai Vado a tirare qualche ragnatela Vado a tirare qualche ragnatela E probabilmente magari Andrò in giro a Roma Piazza di Spagna Vestita da Spider-Man Da Spider-Man Quindi occhio eh signori In giro per Roma Piazza Navona Piazza del Popolo Ma la domanda viene spontanea Ma non è freddo? Freddo no Caldissimo in realtà Te l'ho detto Vabbè ma dentro qui Comprime tutto Anna Non Sì ma fuori A Piazza di Spagna Non fa freddo No Vabbè è giovane Ma lui è giovane Spider-Man Ti voglio qui Tra 6-7 anni 3-7 Va bene Sarà uno Spider-Man Un po' più anziano Ma stai sicura Che sarà sempre Spider-Man Senti un regalo Sotto l'albero Che Spider-Man Vorrebbe trovare Un'attrezzatura nuova Qualcosa No no Per gli spararagnatelli Ci sto lavorando Più a qualcosa Di Credo sia No più che altro Un augurio Per il 2023 Ne abbiamo bisogno Sì sì Decisamente Magari trovare un po' di tempo Per tornare a fare animazione Negli ospedali Te lo auguro Te lo auguriamo Io Anna Maria E ti auguriamo Buon Natale Lorenzo Spiderman Senti un abbraccio Te lo possiamo dare Vai vieni Vieni qua così Non combiniamo le camere Per Manuel Mazzoni No poverina Allora Ma tu ci lasci Dovevi fare una cosa Un salto da qualche parte Un salto Faccio un salto Un salto te ne vai Torni in regia Torni in regia Vai a salutare i nostri Amici registi Ecco guarda Passa pure il microfono Non è passato Allora noi ci salutiamo Perché dobbiamo chiudere Sì Noi ringraziamo Spider-Man Sì Lorenzo Fantini Simboli E noi ci vediamo Ovviamente domani Alle 9.30 Sempre in diretta Con Sì Lo fate voi? Facciamo il giochino Che abbiamo detto? Sì facciamo Vai ci dà la linea Spider-Man Ci lancia la ragnatela Ecco che arriva Lo fate con Ecco che arriva Ecco che arriva Pronti? No Niente Non voglio farlo Eccolo Sì eccoli Apritevi il microfono Adesso 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 Mattina Con noi Ciao Ciao A domani Ciao Ciao